Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia drammatica che arriva da Cassano Magnago. Gravissimo incidente stradale questa mattina alle 11 in via Boscaccio. Un ragazzo di 21 anni per cause ancora imprecisate ha perso il controllo della propria auto finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica dopo aver abbattuto una recinzione. L'urto è stato violentissimo. Il giovane rimasto incastrato tra le laniere ha riportato un trauma cranico con motivo alla testa che ne mette a repentaglio la vita oltre alla frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco che con una manovra estremamente complicata hanno estratto il 21enne usando le cesoie. L'automedica è un'ambulanza della Croce Rossa di Gallarate che ha trasportato il ferito all'ospedale di Circolo di Varese. Due incidenti sul lavoro oggi nell'Alto Milanese a Vanzaghello e a Parabiago dopo quello avvenuto nei giorni scorsi a Inveruno. A Vanzaghello l'incidente è avvenuto alle 11.45 di oggi in una ditta di via dei Carpini. Un 44enne è caduto dalla scaletta di un camion picchiando la testa. Inizialmente era sembrato molto grave, successivamente è stato accompagnato all'ospedale di Legnano da un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e si è stabilito che ha riportato un trauma cranico che è un trauma ad un polso, ma non è in pericolo di vita. La giornata nera per la sicurezza sul lavoro è proseguita poi alle 13.35 quando si è verificato un nuovo infortunio in una ditta di Viale Lombardia a Parabiago. Un operaio di 44 anni è rimasto anche lui ferito. L'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano da un'ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno. Il lavoratore ha riportato un trauma per lo schiacciamento di un arto inferiore dopo la caduta di un nastro d'acciaio. Fortunatamente non è grave. Voltiamo pagina. Il prefetto di Varese Dario Caputo lascia il suo incarico perché ha raggiunto il limite massimo di età. Il 31 gennaio infatti andrà in pensione. Giunse in città nell'aprile del 2020 in piena pandemia dopo l'improvviso spostamento di Enrico Ricci a Bergamo. A pochi giorni del suo tiro non è mancato il ringraziamento del sindaco di Varese Davide Galimberti che in una nota scrive ringrazio a nome di tutta la comunità il prefetto Dario Caputo per il lavoro svolto. Sono stati anni difficili anche per il prolungarsi della pandemia ma lavorare al suo fianco è stato un onore perché ha saputo condurre il suo incarico con grandissima professionalità e nell'interesse dei cittadini. Ora la lotta al covid. Per i genitori è un'occasione da non lasciarsi scappare. Domani sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-covid in libero accesso e cioè senza prenotazione in 28 centri del territorio regionale. Questo perché mentre diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie e superiori, l'87,1% della popolazione della fascia a 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose, le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8% rispetto alla settimana precedente. I 28 centri aderenti sono stati suddivisi nelle zone di riferimento ATS, 4 in fascia montana, 3 in Brianza, 4 nella Bergamasca, 5 nel Bresciano, 3 in Valpadana, 3 nel Pavese, 2 nell'ATS Milano, uno a Lodi e l'altro a Fiera Milano City e 4 sul territorio di ATS in Subria. Sono Arancio Valcuvia sulla strada provinciale 15, all'ospedale di Circolo di Varese, a Malpensa Fiere e al centro vaccinale di Como in via Napoleone. Arancio e all'ospedale di Circolo i centri vaccinali saranno aperti in entrambe le giornate con orario continuato dalle 8 alle 20, a Malpensa Fiere dalle 14 alle 17. Per chi si volesse spingere a Milano, a Fiera Milano City l'apertura sarà dalle 8 alle 19. Infine lo sport con la serie A1 di basket. L'open job Metis misura sul campo di Trento lo spessore della nuova era bianco-rossa. Stasera alla BLM Group Arena, palla 2 alle 20, la compagine di Johan Royackers sarà ospite della terza forza Dolomiti Energia nell'inedito back-to-back contro la stessa avversaria, domenica ospite a Masnago, proposto dal calendario asimmetrico. Sarà un match significativo per molti aspetti in casa Open Job Metis, dal debutto da head coach del tecnico olandese alla verifica del suo impatto non solo emotivo ma anche tecnico con due settimane di tempo per metabolizzare la matrice difensiva conferita al gruppo. Ma ovviamente sarà anche la prima partita senza Alessandro Gentile, l'ultimo residuo della gestione tecnica precedente ha lasciato ieri Varese. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.